e no perché hai quel grigio lì a me piace gli sieli azzurri capito ecco e vedi qui hai tutto quel grigiume sopra no 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 che non tanto un po lo facciamo un ora è un minuto lo prendiamo un minimo minuto poi che bell'aria fresca sul braccio un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti.